Il treno regionale, 10 8 8 9, di Trenord, proveniente da Milano Greco Pirelli, è diretto a Piacenza, delle ore 0 e 15, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10 8 5 2, di Trenord, proveniente da Piacenza, è diretto a Milano Greco Pirelli, delle ore 05 e 14, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Codogno, Casal Pusterlengo, Secognago, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate.